Grazie Presidente, ovviamente il voto sarà favorevole, ringrazio ancora per l'attenzione, ringrazio per aver valutato positivamente gli emendamenti che, come ho detto all'inizio, non entrano nel merito della delibera stessa. Quindi sono stati fatti rispetto al testo originario degli aggiustamenti e dei correttivi proprio alla luce di un ulteriore percorso di indagine che è stato fatto. Quindi questo dovrà essere considerato come una base per poi allargare il discorso del trasporto scolastico, magari andando anche a rivedere in un contatto interistituzionale quella che è la normativa regionale che risale ad anni molto passati, quando c'erano anche delle realtà di altro tipo. Quindi voto favorevole. Grazie. Grazie. Grazie.